Bentornati su ilghizmo.it, oggi siamo in collegamento con SBS, per la precisione con Stefania Gilardi. Ciao Stefania, benvenuta. Ciao Luca, è un piacere essere qua con te oggi in collegamento. Il piacere è tutto nostro, tutto mio, anche perché allora iniziamo a dire tu sei Prado Manager di SBS per il progetto che si vede alle tue spalle che è Kesemi, è già il nome, insomma qualcosa evoca. Cos'è Kesemi? Kesemi è l'ultimo progetto nato in casa SBS, è un progetto che è stato fortemente voluto con una visione strategica che contraddistingue da sempre SBS, che voleva affacciarsi a un mondo un pochettino meno tecnologico e più legato alla moda e al lifestyle. Quindi abbiamo lanciato questo brand che è stato presentato a IFA a settembre. Come mai avete scelto IFA per presentare Kesemi? Perché tu sei un acquisto diciamo recente di SBS, sei stata presa e portata all'interno dell'azienda per seguire questo progetto in virtù anche delle tue competenze. Quindi IFA è stata la prima piazza utile, il primo momento utile per svelarlo, ma ci lavorate da tanto. Esattamente, esattamente. Appunto l'intenzione era già nelle corde dell'azienda da tanto tempo. Poi con il mio ingresso nel mese di marzo, quindi proprio quasi a metà dell'anno appena trascorso, abbiamo unito questa intenzione di SBS, di affacciarsi in questo nuovo segmento, in questo nuovo business se vogliamo e le mie competenze, perché appunto provengo dal mondo della moda in cui ho lavorato per molti anni e dall'unione di queste forze nasce Kesemi. Kesemi che cos'è? È un brand di accessori lifestyle, quindi non vogliamo puntare solamente al fashion, ma sono accessori che combinano funzionalità e stile, quindi diamo sempre un occhio di importanza di riguardo alle prestazioni, alle funzionalità del prodotto, ma vi è anche dietro una ricerca proprio a livello estetico, quindi a livello di colori, a livello di pattern, di fantasie, nella creazione di famiglie, di prodotto, quindi oggetti che si parlano tra di loro, rivolgendoci anche a un nuovo target di consumatori. È un target sicuramente più femminile, ma non solo, è un target appunto attento all'estetica, che ha voglia di esprimere la propria personalità attraverso gli accessori. E qui anche magari ti racconto come è nato il nome Kesemi. Eh sì, perché a questo punto mi sono curioso di capire Kesemi perché? Esatto, Kesemi è stato scelto appositamente, proprio all'inizio di questo progetto, per le due componenti che ha. Quindi case, che significa custodia, ma non è solamente la cover smartphone, è un custodia in un senso più ampio del termine, quindi sicuramente accessori dedicati, la linea si compone di cover smartphone, di cover airpods, quindi dedicate, ma anche universali. Abbiamo tutta una linea di borsette, quindi sono borse destinate a contenere lo smartphone, come qualsiasi altro tipo di oggetto, piuttosto che gli auricolari, i tablet o semplicemente degli astucci, delle beauty bag per gli oggetti personali. E me invece sta a significare proprio la personalità, quindi l'individuo, il concetto di self-expression che si vuole esprimere attraverso i propri accessori. Come poi vedrete, come avete magari visto dai prodotti, sono tutti prodotti anche piuttosto colorati, che vogliono esprimere appunto un messaggio positivo, un messaggio di libertà, un messaggio anche di funzionalità e di versatilità, come ti dicevo. Senti, tu quale usi? Perché alla fine, avendo la possibilità di scegliere tutti quelli che vuoi, praticamente lavorandoci, quindi immagino li userai, li proverai, eccetera, quali sono i tuoi preferiti? Quali ti piacciono di più? Allora, i miei preferiti sicuramente le borsette a tracolla da smartphone, perché soprattutto quando si è sempre in movimento, in viaggio, ti permettono di avere il telefono sempre a portata di mano, senza essere particolarmente ingombranti, come magari potrebbe essere una borsa, una borsa da donna classica. E poi tutte le catenine, i ciondolini che permettono di tenere il telefono al polso o addirittura al collo, appunto, sono diventate ormai inseparabili. Senti, secondo te, perché è importante, attraverso un accessorio come Chesa e Mi, esprimere la propria personalità? Perché, come giustamente spiegato prima, Mi è la chiave di volta di questo tipo di collezione. Ecco, perché diventa importante per il consumatore, che potrebbe essere, nel caso del pubblico femminile, però potrebbe essere mia figlia, potrebbe essere chiunque. Perché è così importante lasciare all'utente la possibilità di esprimersi in modo diverso, di proporre un oggetto che di fatto è comune, come lo smartphone che guarda tutti gli altri, ma vestirlo in un modo che lo rappresenti e lo faccia riconoscere. Ti hai detto una parola, appunto, che secondo me è già la chiave della risposta. Sono oggetti molto comuni, che si danno quasi per scontato, con cui abbiamo a che fare tutti i giorni e che magari ci stanchiamo anche di vedere sempre nelle solite vesti, perché comunque la personalizzazione è un concetto sempre più ricercato. Quindi così come acquistiamo tantissimi vestiti o comunque accessori per cambiarci appunto ogni giorno, perché non vestire il proprio telefono piuttosto che i propri accessori con il pezzo sempre nuovo, sempre giusto o abbinato al proprio outfit. Quindi è proprio questo il concetto, secondo me. Allora, siete partiti da IFA. Siamo, diciamo, a inizio 2023, quindi sono passati, diciamo, tu sei entrata a marzo, quindi non abbiamo ancora fatto il giorno dell'anno. Diciamo che sono sei mesi accelerati su cui state lavorando, del passato Natale, eccetera. Quanti modelli avete, quante referenze avete, insomma, di quanti, di quanti, di quanti, di quanti, di come, come si compone la collezione di Chesemi? Allora, la prima collezione, quella appunto che è stata lanciata a Berlino, contava circa 120 referenze. E mi sento già di dirti che andremo quasi a raddoppiarle con la collezione che verrà presentata a Barcellona, per la natura proprio del prodotto. Quindi deve essere un prodotto sempre innovativo. Sicuramente ci saranno alcuni oggetti che sono magari destinati a rimanere, perché riteniamo rappresentativi e iconici. Altri, invece, verranno sostituiti da nuove colorazioni, da nuove varianti, come appunto avviene nella moda. Che affinità trovi, diciamo, fra il tuo vecchio mondo e questo mondo degli accessori? Perché alla fine, per tua fortuna, sei trovata a seguire una gamma di SBS molto caratterizzata e nel quale veramente puoi esprimere il concetto di moda, di fashion, di collezione, di autunno-inverno, primavera-estate, insomma, tutte quelle dinamiche, quelle parole chiave, quegli slang che vengono usati nella moda. Ecco, hai trovato delle affinità fra, diciamo, il tuo vecchio lavoro e questa nuova attività di cui ti occupi, che puoi in qualche modo rinnovare anche il modo di interagire con i consumatori rispetto agli accessori. Io vivo più la parte lato fornitore che il lato consumatore, quindi mi occupo proprio dello sviluppo del prodotto, unitamente ovviamente al nostro ufficio grafico, al nostro ufficio stile, diciamo, nella moda, tutto parte dall'ufficio stile, noi abbiamo un ufficio grafico che comunque svolge questa funzione, quindi fin proprio dai principi io seguo il prodotto da lanciare, quindi dalle caratteristiche, come ti dicevo, stilistiche, quindi identificare i colori, i pattern, le personalizzazioni, fino all'arrivo della produzione. Quindi sicuramente è un lavoro affine per certi versi, completamente diverso per logiche, logiche soprattutto di mercato, anche se appunto quello che noi vogliamo trasmettere con questo nuovo brand e dare un nuovo valore a questa categoria di prodotti. Uscire un po' dalla logica della commodity, farlo diventare un accessorio che si compra per gusto, di pancia quasi, fammi dire. È il classico acquisto distinto, quindi non lo compro perché ho bisogno, cioè perché ho quel determinato bisogno, ma lo compro perché mi piace. Che è anche più forte, che è anche l'acquisto secondo me è più interessante, è una dinamica che è più interessante. Ti faccio una domanda più ampia, l'hai già accenato, ma è giusto per completezza. All'interno di tutta la gamma SBS, che esemi, che tipo di ruolo ha, come si incastona? Secondo me è un completamento, appunto perché la gamma core di SBS è attentissima alle funzionalità, alle prestazioni, quindi ha una forte componente tecnica. Case & Me invece è il completamento di estetica, di acquisto di impulso. Su quali canali divinità si può trovare? Perché immagino su retail ci sia, ma state pensando di aprire a canali divinità un po' più simili o fashion e che ruolo ha l'online o avrà un prodotto che si presta molto alla vendita online, che si trova attualmente principalmente online a livello di competitor, ti parlo. Noi siamo molto forti, abbiamo una distribuzione molto capillare anche sul canale retail, quindi sicuramente ci rivolgiamo già ai canali esistenti. quindi sicuramente ci affacceremo a canali nuovi, sempre sul canale fisico, quindi department store oppure concept design store, che uniscono più categorie di prodotto, più categorie merceologiche e sicuramente anche il canale online. Ultima domanda, lei è già un po' accennato che volete raddoppiare il numero di prodotti nel 2023, ma ti chiedo, si parte da Barcellona con le novità e ti chiedo quali sono, poi ci sarà di nuovo IFA, immagino che anche lì ci sarà un ulteriore sviluppo, insomma il 2023 per che esemmi, come puoi descriverlo, cosa puoi anticiparci di quello che succederà? Allora, avremo sicuramente tantissime novità lato prodotto, quindi introdurremo tanti prodotti nuovi, avremo anche una bellissima novità, quindi una collezione in co-branding, che riteniamo sia uno degli sviluppi strategici del nuovo The Case & Me e sicuramente sarà anche un anno di consolidamento per questo nuovo brand, sarà un anno dove andremo ad affinare anche alcuni aspetti legati all'esposizione, quindi presenteremo a Barcellona anche un nuovo concetto espositivo e tutto in divenire. Quanto c'è di tuo nella scelta dei prodotti che arriveranno? Quanti dei voluti hai individuato magari anche di questo raddoppio di modelli che assolutamente ci credi molto e pensi possa fare la differenza? Guarda, non mi piace parlare proprio di mia iniziativa, perché comunque noi davvero, poi tu conosci la Realty SBS, facciamo sempre un lavoro di team grandissimo, quindi sicuramente c'è una ricerca a monte, però poi le decisioni vengono condivise e c'è davvero uno sforzo da parte di tutti, dai designer a chi si occupa poi dell'esposizione, del punto vendita, è davvero un lavoro di team. Ultima domanda, quella esposizione che vediamo alle tue spalle, anche se è parziale, eccetera, è poi quella che uno dei consumatori devono cercare all'interno del punto vendita o anche su quella, visto che hai accennato prima dei materiali, delle novità per il punto vendita, come direi, evolverà nel corso dei mesi? Evolverà, evolverà sicuramente, quindi presenteremo un nuovo concetto espositivo, ricercando la modularità, quindi il cliente potrà, a seconda dei propri spazi, dello spazio che ha a disposizione, delle modalità di vendita, andare a comporsi il mobile migliore, l'esposizione migliore per il suo punto vendita. Stefania, che dire, io ti aspetto a Barcellona perché sono curioso di vedere le novità e verrà sicuramente vederle e a toccarle dal vivo, anche perché la cosa bella che vedo dei prodotti che hai alle tue spalle è che le cover si possono aprire, alcuni prodotti sono i tuoi esposti e la tattilità del prodotto secondo me fa la differenza, poi alla fine è un ingaggio d'acquisto superiore rispetto al prodotto chiuso e sigillato. Sì, 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 questa è una direzione che continueremo ad adottare, quindi stiamo utilizzando packaging per la maggior parte aperti o comunque il più minimali possibili per dare appunto spazio al prodotto, alla fine è il prodotto che deve parlare, deve comunicare. E allora parleremo ancora insieme a Barcellona e per intanto ti ringrazio per il tuo tempo e per la spiegazione di Chesimi. E in bocca al lupo soprattutto. Grazie, grazie Crepi, grazie davvero. Grazie a voi, grazie a te. Ciao. Ciao.